Un ultimo aspetto prima di poi magari arrivare alle conclusioni, lei in quanto anche direttore di queste missioni abbiamo colto un aspetto importante, vale a dire la formazione della nuova classe dirigente del Burkina Fah, ma non si corre il rischio che una volta che noi abbiamo formato questi giovani, che loro comunque continuino ad essere attratti dalla società del benessere e non colgano a fondo il dovere di contribuire lì a rendere una società più perché molto spesso scappano verso l'Occidente quelli che noi consideriamo più bisogno, ma vanno via anche le energie migliori, una svolta andrebbe anche culturale, andrebbe imposta o favorita per meglio dire anche nel cercare di far capire che poi avere l'ultimo smartphone non è tutto, cioè che la società del benessere, la globalizzazione e l'omologazione alla fine sono solo un miraggio e che bisogna puntare molto anche sul valore della differenza anche culturale, sull'importanza di riscoprire le radici migliori dell'Africa eccetera, questa è una sfida molto impegnativa. Ecco io credo che noi dovremmo fare anche una distinzione anche se potrebbe sembrare a prima vista una distinzione faziosa, cioè c'è una parte del Purchina che vuole emergere, c'è un'altra parte che vuole rimanere com'è, perché forse sono molto nella tradizione loro, sono molto più abituati a certe... noi per esempio la Chiesa la Chiesa Africana ha creato una grande università, l'Università San Tommaso, dove noi abbiamo l'opportunità di poter... è un padre nostro, un nostro religioso camigliano, è il rettore magnifico di questa università, quindi per avvocati, per medici, per biologi, per assiedi sociali, insomma, oramai è una bella, è una grande realtà che la conferenza episcopale africana ha messo a disposizione di tanti giovani. L'università era cominciata in un modo molto semplice, erano 300-400, adesso mi sembra, con l'ultima volta che io sono andato, si agirono sui 4.000 studenti, quindi noi abbiamo messo a disposizione il nostro padre, un biologo, come rettore magnifico, un grande ricercatore, ma noi ci teniamo molto non soltanto a mantenere certamente ad aiutare la povertà, ma a rendere il Burkina culturalmente, se no noi ci troviamo sempre nella stessa situazione, cioè aiutiamo, 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 no, e sono loro stessi che poi si renderanno conto della distinzione, cioè io ho studiato e quindi io ho l'opportunità di potermi guadagnare un pezzo di pane, non sono più quello che devo andare a chiedere, ma quello che in questo momento io, attraverso il mio impegno, la mia laboriosità, i miei sacrifici ho cercato di portare avanti per rendere il Burkina come fecondo, perché altrimenti certamente la povertà c'è, ce n'è tanta, ce n'è in tutto il mondo, eccetera, però noi abbiamo preso una buona strada, la strada di rendere culturalmente nella loro tradizione, nel loro modo di pensare, perché sono intelligenti, sono intelligenti i nostri, adesso noi abbiamo circa dieci religiosi medici, di cui abbiamo un biologo, abbiamo due che hanno fatto una specializzazione per i bambini, come in pediatria, eccetera. Poi certamente lì in Africa c'è un piccolo problema, ma penso che poi con il tempo si risolverà. Per quanto riguarda l'università per medici, ok, ma per quanto riguarda poi la specializzazione, devono venire in Italia. Noi siamo contentissimi, perché siamo stati i fondatori loro, e quindi praticamente averli anche per 4, 5, 6 anni, per quanto loro fanno la specializzazione in pediatria, specialmente in pediatria, noi ci siamo un pochettino indirizzati. Credo che questo sia uno dei compiti bellissimi che noi ci siamo proposti, ecco. Per usare uno slogan, essere sintetici, bisogna amare i poveri, non la povertà, perché la povertà in sé non è un valore, i poveri sono l'incarnazione di Gesù, ma la miseria, la povertà, quella è un qualcosa che va assolutamente combattuta per recuperare quella dignità di essere tutti figli di Dio, di essere simili a Dio, no? Come dice la Bibbia. Luciano voleva aggiungere qualcosa? Due cose, mi volevo ricollegare un attimo a Padre Alfredo, in merito alle sue affermazioni sull'intelligenza degli africani, che io condivido assolutamente, e aggiungo, anche perché loro hanno una tradizione culturale orale e non scritta, per cui effettivamente hanno veramente una grande capacità intellettiva che noi, non per incapacità, ma per disabitudine, abbiamo un poco perso. E questo è un dato di fatto fondamentale. A questo approfitto adesso anche per andare verso la conclusione. Io volevo fare una domanda personale a Vincenzo e ti chiedo, Vincenzo, secondo te, cento anni di salute ancora, ovviamente, ma dato che nessuno di noi è eterno, ci sarà un momento in cui tu sarai davanti a Dio. E allora, in base alla tua vita, secondo te, che cosa ti chiederà a Dio quando andrai da Lui? Allora, mi chiederà, ti ho dato tanti anni di vita, l'hai operato bene? E come un padrone che domanda al dipendente, se ha lavorato bene? Se ha lavorato bene, ti do il premio. Se ha lavorato male, vattene via. Cioè io vedo Dio più come uno che premia, adora. Io voglio andare in paradiso, ma il paradiso di Dio chi è? Sono io. Io sono il paradiso di Dio. E Dio mi ha creato per stare con me in paradiso. E siamo in paradiso reciproco. Capito? Sì. Ecco qui. Quindi come tu hai lasciato il tuo paradiso in Burchina, tu sei il paradiso di Dio. Eh sì. Questo è il tuo concetto filosofico. No, 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 è la verità. È la verità. La filosofia, la filosofia è nel senso che con la quale e senza la quale ti resti dare le quali. Capito? Perciò Dio è con me e io sono con Dio. C'è una fusione di sangue. Ecco qui. Allora, il Signore mi ha dato tutto e io ho dato tutto. Il Signore è tutto per me e io sono tutto per lui. È tutto qui. Bene. A conclusione di questa nostra indimenticabile, possiamo dire, chiacchierata, almeno per quanto mi concerne, sicuramente molto edificante, molto bella. Ecco, l'appello agli amici di Ischia a proseguire su questa strada di carità, di impegno a favore dell'Africa. Brevi battute in che modo gli amici che ci hanno seguito possono essere anch'essi protagonisti di questa immensa opera missionaria. Ecco, innanzitutto, cari amici, è la preghiera. Pregare per il Burkina. Pregare affinché noi, religiosi camigliani che siamo presenti ormai da 50 anni, possiamo portare ancora il dono di Dio dell'amore verso gli infermi. E nello stesso tempo, se vogliamo concretizzare questo amore verso i poveri, abbiamo bisogno anche dei denari, chiamiamoli nel modo più giusto, denari. Se c'è la possibilità di poter fare qualche cosa, scuole, ospedali, orfanatrofi, aggiungete quello che volete. La povertà ha bisogno anche che venga sostenuto con la vostra sensibilità, sia sostenuto col vostro amore. Ecco, questo è il mio augurio per ciascuno di voi. E che il Signore veramente ci doni, doni pace, serenità e gioia ai nostri fratelli Burkinabè e ritrovino quella pace interiore perché ultimamente voi avete ascoltato le notizie il Burkina non se la passa bene. L'ultimissima parola la diamo a fratel Vincenzo che naturalmente insieme a padre Alfredo invitiamo a Ischia, lo abbiamo fatto ufficialmente e vi aspettiamo. Luciano, e poi tu chiudi, io già saluto gli amici che ci hanno seguito, li ringrazio per l'attenzione e do appuntamento al prossimo speciale sulla missione. Ringrazio padre Alfredo nel frattempo, e Luciano e poi padre Alfredo. Niente, io semplicemente mi associo a quello che ha detto padre Alfredo ricordando che a Ischia la parrocchia di Sant'Antonio Abate ha diversi progetti già in atto e aggiungo semplicemente che se ci sono equip mediche oppure dei medici singolarmente, infermiere, vicende, che vogliono collaborare con la loro professione, sono i beni accetti e ci si può organizzare. Nulla è impossibile, tutto si può superare. E fratel Vincenzo concluderà. Allora, allora io dico una cosa molto 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 pratica. Vengono giù tante persone, anche medici, anche molti medici, vengono e vengono lì dalle bruse, dalle malata di esse eccetera eccetera, così, per curiosità così. E poi si mettono a lavorare, anche loro. Cioè si mettono a curare, anche loro. E domandano ai miei ragazzi che pomati, che roba, insomma, se scambi la cosa. I ragazzi del dottore loro devono essere discepoli. E dopo alla fine, dopo 15 giorni, 20 giorni, un mese che sono rimasto giù, dicono fra Vincenzo, adesso io credo in Dio. Come credo in Dio? Perché prima non andavano a me, adesso credo in Dio. Perché ho visto Dio negli occhi di questi malati, di questi malati che sono i tuoi padroni e Signore, sono il tuo Dio. E l'ho visto anche Dio. E si convertono. E vanno ammessi, vengono ammessi da noi, vanno ammessi, vanno ammessi, vanno ammessi, e poi tornano ancora, tornano ancora, tornano ancora, tornano ancora. Quasi tutti gli anni vengono ancora, sempre. Per stare con Dio. Vedete, i malati per me? E Gesù sulla croce della malattia. E la Madonna è là. E io sono la Madonna per i malati di ADS. Gesù che sta sulla croce della malattia. E io sono la Madonna. Gesù è sulla croce di legno. E lì c'è la Madonna. I malati stanno sulla croce della malattia e io sto sotto la croce della malattia a adorarli. Non so come si chiama, non so niente di loro, ma per me Gesù è basta. E per me anche non c'è sesso. Sono malati. Basta. Se Gesù, basta. Basta. E basta. questo qui è tutto per me. Io sto in paradiso anticipato. Adesso sono vecchio anch'io, sono malato anch'io. E vabbè, pazienza. Però loro stanno vicino a me e pregono per me. E io prego anche per loro. Ecco qui. Siamo ancora uniti spiritualmente. Io sono la motrice che traino 400 e più vagoni che sono i malati. Sono i poveri. Sono i miei padroni e signori che porto in questo treno che traino. Ecco qui. I giovani ringrazio e pregate per me che sono un povero uomo, un povero peccatore. Pregate per me. E mi raccomando alle vostre preghiere. I malati pregano per me. Capito? Allora, grazie. Vi saluto a tutti e vi abbraccio col cuore di Gesù e della Madonna. E loro sono i miei padroni e signori. Capite? Sono i miei Dio. Ciao. Grazie ancora a fratelli Vincenzo. Grazie a Luciano Giusepponi per questa scoperta. Non ci resta altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata. L'appuntamento a un prossimo speciale, anche se dopo tutto quello che abbiamo sperimentato oggi sarà un po' complicato aggiungere altro. Grazie per questa bella giornata.